Quello che questo istituto si aspetta da voi coincide con quello che auspicano i vostri cari. Siete qui per ritrovare il giusto passo. Si scorda di dire che siamo di reclusi. È vero che ci spiate? Guarda, li vedi? E dove vanno? Non lo so, ma voglio scoprirlo. Le vostre famiglie sanno che tutto ciò che succede qui dentro lo risolviamo qui dentro. Tu stai attraversando un bosco. È scuro, freddo. Vorresti tornare indietro. Non farlo. Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al decimo posto, Thor, Ragnarok. Al nono posto, Spider-Man Homecoming. All'ottavo posto, Baby Driver, il genio della fuga. Al settimo posto, La Torre Nera. Al sesto posto, Atomica Bionda. Al quinto posto, Valerian e la città dei mille pianeti. Al quarto posto, Kingsman, il cerchio d'oro. Al terzo posto, Star Wars, gli ultimi Jedi. Al secondo posto, Dunkirk. E al primo posto rimane, It. E questa è la classifica aggiornata. Per vedere se la classifica cambierà, non perdetevi i prossimi trailer. E per saperne di più su questo film, visitate il nostro sito, blog.screenweek.it. Ciao!